Radio Bruno Estate. Venerdì 6 luglio, lo spettacolo musicale di Radio Bruno è alla Notte Rosa di Cesenatico. Dalle 20 sul palco di Piazza Andrea Costa. Dolce Nera. Alessio Bernabei, Red Canzian, Enrico Nigiotti, l'ospite internazionale Mia Il... Elettra Lamborghini, Fred De Palma, Sergio Silvestre, Anna Tatangelo e dopo i fuochi d'artificio, uno speciale DJ set con Gabri Ponte. Radio Bruno Estate. Venerdì 6 luglio, alla Notte Rosa di Cesenatico. Seguilo in diretta radio e in tv sul canale 256 del Digitale Terrestre. L'ingresso è gratuito in collaborazione con Comet, Wind, Grissin Bon, Italpizza, Danny Rose, Piper Banca, Trey, Mondo Convenienza e Assicop Agente Generale Unipol Sai.